Allora, questa volta con Allcom siamo arrivati direttamente nel salotto di Caterina Shula. Come stai Caterina? Molto bene. Siamo infilati dentro. Perfetto, anche con Batman sopra. Esatto, Batman che ci guarda. Allora, siamo venuti qui perché è un momento molto felice per te, ti abbiamo appena visto in Blackout sulla Rai, c'è Iper Sonia su Prime Video, ti abbiamo visto in Land of Dream. Come lo stai vivendo questo momento innanzitutto? Molto rilassata e molto felice in realtà. Cioè te lo stai godendo? Non lo sto godendo, ma forse per la prima volta perché di solito sei sempre di corsa, un lavoro dopo l'altro, lavori e lavori e non ti rendi conto di quello che ti è successo. Esatto, non percepiti quello che hai fatto e poi in realtà uno fa le cose che puoi dire... Esatto, e invece la prima volta che mi sono guardata indietro ho detto ho fatto un sacco di cose belle. Ah sì, gli ultimi quattro anni dalla festa del Cino di Roma in poi diciamo sono arrivati una serie di cose. Senti, partiamo da Blackout, che com'è stato il set con tutta la banda? Siete stati in Trentino tra l'altro. Siamo stati in Trentino, eravamo tantissimi, è un cast veramente corale, più di un cast corale perché eravamo veramente tanti in scena. Molto divertente e molto faticoso perché abbiamo girato in dei posti freddissimi, in dei posti isolatissimi, altissimi. Beh, tu però te lo stessi abituati insomma da Bielorussia. Ecco, come l'hanno detto tutti, ma ho ribadito il concetto che in Bielorussia comunque ci copriamo e non vado in giro con la maglietta e quindi il freddo comunque. In effetti. Lo sento. A proposito di questo, Riccardo Don, il nostro regista, che è molto simpatico e li vogliamo molto bene, la cosa divertente è che non voleva farci girare con le giacche da neve. Ah, che bello, che simpatico. No, perché non le piacciono in video le giacche? Beh, sì, in effetti, diciamo, non sono belle. Siete in 12 in scena, non vi posso vedere con le giacche, con le giacche, con cappelli, sciarpe, giacche e via a ogni giacche. Quindi era molto bello. Temperatura media? Meno 5, meno 6, quindi è stato molto bello con Marco Rossetti, a proposito di mio compagno. Arrivavamo con la motoslitta con i pile, con dei maglioncini, scendevamo, facevamo le nostre scena. Sportivissimi. Sportivissimi. Senti, ma te le sei riviste in tv? Le sono riviste anche ieri sera, che è stata la terza serata, ce ne manca una. Che effetto ti fa quando rivedi? Ti piace o tu prendi gli appunti? No, 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 mi piace, faccio una cosa abbastanza sciocca, che quando parlano gli altri alzo il volume, quando parlo io lo tolgo, lo metto a zero, perché i miei lavori li rivedo 3-4 volte, la prima volta lo vedo senza il volume, guardando solo le facce. E quindi i movimenti anche? Sì, quindi se non mi fa troppo orrore riesco a guardare poi col volume basso, se non mi fa troppo orrore neanche quello riesco a vedermelo normalmente come un film. Ma prendi appunti poi dici lì, però potevo fare… Ma io sono molto autocritica, quindi non sono quasi mai contenta, tranne se me lo dicono in tanti e dicono, Caterina, sei riuscita a fare un buon lavoro, quindi basta, via. Senti invece hai fatto anche i Personia, che adesso è arrivato su Prime Video con Stefano Corsi, che è un film distopico molto particolare. Molto particolare, io ultimamente faccio parte dei progetti molto particolari. Eh sì, progetti molto particolari. Sembra qualcosa che sto guardando io sul mercato. È vero, poco italiani. Poco italiani, poco diversi, anche Personia è un thriller noir distopico. Con effetti speciali, tra l'altro particolari. Effetti speciali. Il mio personaggio in particolare, Viola, è un personaggio che quasi sembra esista o non esista, non si capisce in fondo. Però di base è anche una storia d'amore, quindi in qualche modo ha comunque avvicinato molto il pubblico. Adesso è arrivato su Prime Video da ieri, quindi insomma… Come prepari i tuoi personaggi? C'è uno standard, oppure ti avvicini a seconda del ruolo? Guarda, io non avendo fatto le scuole non ho in realtà un metodo che mi è stato insegnato, o comunque un metodo che ho sviluppato da quando mi è stato lavorare. C'è un approccio tuo. Sono sempre andata un po' a tentativa delle sensazioni di pancia. Quindi quello che faccio ovviamente è parlare con il regista, soprattutto mi interessa sempre come è nata l'idea del mio personaggio. Cioè, come è nata il regista, l'idea di scrivere il personaggio, quando è nata, in quale occasione. Come lo vedo lui, e poi faccio un po' una cosa… un po' tenere, un po' divertente. Avendo una vita abbastanza normale, io ho tre figli, casa, spesa, sono lavoro, faccio cose normalissime. Cioè non hai vite tipo ipersonio, blackout, diciamo… Esatto, no, niente di così stravagate. Quindi quando inizio un set, chiudo gli occhi e davvero dico, non sono più Caterina. Che bello, però è rilassante o no anche a volte? Molto. È una vita prestata. Caterina, da lunedì insomma giri tutti i giorni, sarà faticoso, io mi riposo quando lavoro. Cioè praticamente esci da Caterina… Esco da Caterina e entro in un'altra vita che non potrei vivere avendo un cane, tre figli, una casa… Cioè vai in vacanza da Caterina e sciula praticamente. Esatto, stupendo. Senti, torniamo indietro invece alla Festa del Cine di Roma dove era uscito Land of Dreams, Nicola Battangelo, che era un film anche molto poco italiano, grande produzione, Giardin Bulgari, è un musical… Sì, poco italiano… Grande Stefano Fresi… Sì, Edoardo Pesce, insomma… Tanti, tanti, tanti attori italiani… Ho girato in inglese che per me era la prima volta, ho cantato… Grande sfida anche quella… Che per me era la prima volta, non ho mai cantato, non ho mai recitato in inglese… Così, due sfide… Vabbè… Così ho detto… Altro di cantare sulla ruota… Niente… Esatto… No, è stato molto bello, è stato molto bello perché poi tutti i reparti erano italiani, invece… Quindi erano tutte persone che, insomma… Ne hanno fatto parte veramente col cuore… Abbiamo girato due mesi in Bulgaria, un mese di prove… Quindi, insomma… Ho studiato tutta l'estate il canto… Quindi io ho iniziato a prepararlo a maggio per girarlo poi a ottobre… Quindi… È stata una bella sfida… Ed è piaciuto… E quello che effetto ti ha fatto vederlo poi? Una grande soddisfazione… Poi… Un'altra cosa, insomma… Che mi ha fatto molto piacere… Che l'ho tutto ridoppiato in italiano… Anche perché non hai il corpo che ti aiuta, no? Esatto… Perché un po' l'opinione si divide nel nostro cinema, no? C'è che dice… No, addobbiato… Bisogna lasciare il doppiaggio… Esatto… Come i francesi… Oppure lasciare la lingua originale… Oppure l'attore non si dovrebbe doppiare… Per me l'attore dovrebbe saper far tutto… Soprattutto doppiarsi… Sì, poi soprattutto… Ovviamente è difficile… Per me è la prima volta ci metti il triplo… Però ti metti glielo a fare perché fa parte del tuo lavoro… Senti Artina, quando è che hai sentito la prima chiamata per la recitazione? È stato un momento in cui hai detto… Io voglio fare questa roba qua da grande… Ma… Guarda, io dovevo fare l'interprete… Ah? Io ho fatto un liceo linguistico a Ostia… E… E mia mamma da quando ero piccolina… Forse mi ha portato anche in Italia con quel pensiero, insomma… Di darmi un'istruzione che potesse… Beh, c'è già tu avevi… Farmi fare un… Un lavoro serio, come lo dicono sempre i genitori… I genitori degli attori… Speravo per te… Un lavoro serio… E poi feci un provino per i cesaroni… Ah? E… E dissi la mia prima buona bugia per una buona causa… Cioè… Dissi che sapevo portare il motorino… Perché mi dissero… Guarda… Sei perfetta… Ti prendiamo subito… Cosa che non mi è mai capitato… Perché adesso ovviamente… Facciamo quattro, cinque provini… Sei callback… Quindi… Quella è una cosa che non mi è mai più ricapitata… Quindi… Mi dissero… Guarda, ti prendiamo… Però devi saper portare il motorino… Io non ho neanche visto a Ostia neanche da lontano… Cioè… Per me era l'autobus… Che hai fatto lezioni private poi di… Ho fatto due lezioni… Perché le dissi… Guarda, lo so portare… Ci vediamo sul set… E… Certo… A quel punto rifiutare per non saper portare il motorino… Mi sembra… No… Come fare il musical dicendo… Non sai cantare… Veramente… Non si può fare… Non si può fare… Quindi… Da lì forse ho detto… Mi piace… Proviamo… Però… Mi sono anche messa a studiare… Insomma… L'ho presa… Beh certo… Perché poi la strada è lunga… Ma chi è il tuo mito? C'è un'attrice del cuore… Quella che vedi e dici… Guarda… Io mi ricordo… Ovviamente venivo da… Da Belorussia… Dove… Purtroppo… A cultura cinematografica non c'è… Non è mai stata sviluppata… Quindi per me… I primi film… No… Quando sono arrivata… Che neanche le capivo… Più di tanto… Perché io sono arrivata… Che non parlavo di italiano… E mi ricordo che… Vedi… Vedi… Isabella Aragonese… Ah… E Michela Ramazzotti… Che per me… Era proprio lo stile… Italiano… Italiano… E anche un modo di raccontare… Femminile… Che mi ha fatto impazzire… Ancora adesso… Michela… Per me… Il cinema italiano… Ah sì… Una delle mie… Quindi c'è più riferimenti italiani… Sì… Perché sai… È ovvio che ti viene… Subito da dire un nome americano… Straniero… Esatto… Mary Streep… Mary Streep… Ovvio… Parliamo di grandi… Di grandi talenti… Irripetibili forse… Nel mondo… Però secondo me… Il cinema italiano ha dei talenti… Sì… Pazzeschi… E le nostre attrici… Sono assolutamente… Il livello americano… Solo che a volte noi le raccontiamo meno… No… Celebriamo poco… Esatto… Ma come anche le maestranze… I nostri italiani… Sono migliori dei modi… E su questo… Non dobbiamo… Dimenticarlo… È vero… Assolutamente… Allora… Domanda… Inevitabile… Qual è il tuo film… È un film che ho rivisto anche… Forse una settimana fa… Pulp Fiction… Ah… Perché è un film… Eh tu sei un po' umaturo… C'è un po'… Me lo dicono… Un grandissimo complemento… Ovviamente che… Mi stimola per andare avanti nel mio lavoro… Ma Pulp Fiction… Per me è un film che mi dà un sacco di emozioni diverse… Ah sì… È proprio il tuo classico… Gioia… Energia… Un sacco di cose insieme… Lo trovo veramente… Una dei capolavori vicino… Qual è il tuo personaggio preferito di Pulp Fiction? Beh… Un film… Ovviamente… Con il ballo con… C'è un'altra volta… Tanti Caterina… Se domani mattina ti suona il telefono… E hai un regista che ti chiedi di lavorare con lui… Chi vorresti che fosse… Regista o regista… O una regista… Ah… Che scelta… Verzi… Ah beh… Giustamente hai detto… Verzi… No… Sempre sognato a lavorare con Paolo… Proprio… Per il suo… Delicato modo… E' anche pazzo di raccontare… C'è… Grande attenzione ai personaggi… E' il mondo femminile… Sì… Quindi… E' una cosa che sento che mi manca… E mi piacerebbe tantissimo fare… Quindi… Sì… Paolo Verzi… Ma tu che spettatrice sei? Cioè… La sera quando ti rilassi sul divano oppure vai al cinema… A parte i cartoni per i bambini… A parte i cartoni per i bambini… Che comunque… E' espertissima… Non ne vediamo tantissima… Perché preferisco metterle un po' di musica e così… Ah vabbè… Con le gemelle ancora mi salva due anni… Il grande… Però le sto facendo vedere un po' di cartone Disney… Quindi… Quelli classici dai… Esatto… Dagli aristocati in su… Sono una spettatrice… Un po' legato a quello che ti dicevo prima… Che quando lavoro mi riposo… E quindi io… Durante gli infiniti tre anni che prendo… Mi vedo un sacco di serie… Un sacco di film… Che recupero sulle piattaforme… E quando sono a Roma ovviamente vado… Al cinema… Che ultimamente sempre è più raro perché… Lavorando… Poi giro sempre nei posti sperduti… Io non giro mai… A Bari… Esatto… A Napoli… Io giro dei paesini… Dove c'è un cinema che è aperto una volta al mese… Sul set di Blackout quella sera che facevate… Giovate la carta… Nulla… Non c'era… Era fuori stagione… Quindi… L'unico albergo che era aperto era il nostro… Dove giravamo e dormivamo… Tipo una missione… Era veramente Blackout… Ma mancava solo la valanga… Ma era davvero… Fantastico… Una missione proprio… Sì sì sì… Tre mesi completamente tagliati fuori… Fuori dal mondo… Fantastico… Dicate… Domani sera organizzi una cena… Visto che siamo qua a casa tua… Organizzi una cena… Sì… Io faccio il cameriere… Sì… Puoi invitare quattro persone… Sì… Di tutti i tempi… Da Maria Antonietta a Fellini… Amma mia… Amma tua… Amma tua… Amma tua… Ma guarda… Ti sto però… Andrò sul moderno intanto… Vai… E mi piacerebbe vedere… Insieme… Al tavolo… Quattro registi italiani… Ah… Completamente di stile diverso… Bello… Che cosa si potrebbe poter dire in quattro ore… Paolo Sorrentino… Gabriele Muccino… Perfetto… Già… Paolo Ginovese… A cui piace molto mangiare e bere… E conversare… E… E devi di Verzi allora… È Paolo Verzi… Sì… Vorrei proprio vedere queste quattro teste… Così diverse… Così… Beh sarebbe interessante… Chissà… Magari potrebbe uscire un bel film episodico… Quelli degli anni sessanta… Che facevano… Esatto… Il suo… Tanti Cate che ci sono… Cosa c'è nei tuoi cassetti adesso… C'hai progetti nuovi che puoi dire… O non puoi dire… Ho appena finito di girare Il Re 2… Con Luca Zingaretti… Ah… Seconda stagione… Sono molto felice perché… Sono un avvocato… Come è Luca Zingaretti… Davvero… Eccezionale… Eccezionale come collega… Da tutti i lati… Quindi… No… Sono molto felice perché faccio un avvocato… Che lavoro che volevo fare da tanto tempo… Mi capita sempre che quando dico nelle interviste… Quello che vorrei fare nel prossimo progetto… Sì… Da l'ordine… Adesso possiamo dire anche… Possiamo dire anche un film di Tarantino… Sì… Vorrei molto farlo così… Quindi scriviamolo… Scriviamolo… Asatto… Qualcuno lo scriva… E… Quindi avvocato nel secondo stagione del re… Sì… E lunedì inizio a girare una serie Italo-Svizzera con… Ah… Tognazzi e Martari… Quindi… Dove sono una giornalista… Ah… E la giri in Svizzera… Sì… La giriamo in Svizzera… E quindi anche lì prendi vacanze da Caterina Schull… Sì… Prendo anche tre treni per arrivarci… Ma anche vacanze… E ti stacchi completamente… Fantastico… Allora ci vediamo la prossima volta… Non posso dire dall'hotcorn ma direttamente dal salotto di casa di Caterina Schull… Grazie Caterina… Grazie mille…